E questa mattina vogliamo andare alla scoperta di itinerari religiosi, santuari e luoghi sacri. Lo facciamo grazie alla presenza di una travel blogger cattolica, lei è Sara Alessandrini. Buongiorno Sara, benvenuta. Buongiorno a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, partiamo da ciò che fai. Spieghiamo ai nostri telespettatori chi è e che cosa fa una travel blogger cattolica. Allora, una travel blogger cattolica è un'appassionata di viaggi che racconta le proprie esperienze attraverso un blog online. E quindi ovviamente parliamo di itinerari religiosi. Questo blog online per una travel blogger diventa una specie di diario di viaggio dove appunto io racconto le mie esperienze, do consigli, informazioni a 360 gradi, ma dal mio punto di vista ovviamente. Quindi diciamo che è la mia storia e racconto appunto questi luoghi religiosi. Ho iniziato così con questo blog online e poi ho deciso di aprire anche dei canali sui social network, quindi su Instagram, su Facebook, per raccontare appunto attraverso dei piccoli video le mie esperienze. E quindi insomma proprio live, quindi mi succede proprio questo. Io vado a fare un pellegrinaggio e durante il pellegrinaggio racconto giorno per giorno tutto quello che vedo. Ecco, il blog, spieghiamo che cos'è una sorta di diario, quindi un travel blogger, un diario di viaggio. Un diario che è fatto di incontri, incontri con i luoghi ovviamente, ma anche con le persone che popolano quel luogo, quei luoghi che un viaggiatore, un pellegrino si trova a visitare. Allora Sara, in che modo secondo te i santuari, i luoghi sacri possono essere delle oasi? Perché tante volte si sente anche questa definizione, no? Un santuario, un luogo di preghiera, un oasi dove si va a rifocillare un po' lo spirito, il corpo, la mente. Ecco, in che modo questo può far ritrovare anche la pace? Ecco, io personalmente vedo il santuario come un pronto soccorso spirituale, cioè nei momenti in cui mi sento scoraggiata, in cui vedo che la mia fede viene meno, diciamo così, mi piace organizzare un viaggio, un pellegrinaggio, andare a visitare un santuario, perché so che lì trovo sempre la porta aperta, trovo sempre un confessore disponibile e solitamente sappiamo che nei santuari ci sono state delle apparizioni, quindi sono dei luoghi speciali dove si vive e si respira la fede in maniera particolare. Allora, esistono delle differenze, ad esempio, tra il pellegrinaggio e il cammino religioso, Sara? Assolutamente sì. Allora, per me il pellegrinaggio ha una valenza molto particolare, perché devo dirvi la verità, diciamo, nel periodo post-Covid, mi sono resa conto che il pellegrinaggio può essere anche quello fatto nel proprio quartiere, visitando le chiese del proprio quartiere, facendo un piccolo pellegrinaggio, senza la necessità di andare lontano. Poi ovviamente ci sono i grandi pellegrinaggi, che sono quelli all'Urd, Fatima, in Terra Santa, a Roma sulle tombe degli Apostoli, però ci sono anche dei piccoli pellegrinaggi che tutti possono fare, nel proprio quartiere, nel proprio paese, visitando appunto le chiese e i luoghi sacri, le piccole sacre che si incontrano per strada, e facendo appunto un piccolo itinerario religioso. Mentre il cammino ha in sé proprio la parola del movimento, e quindi insomma ci invita appunto a spostarci, a compiere un cammino, anche possiamo dirlo un piccolo sacrificio, no? Quindi anche perché il cammino, solitamente noi pensiamo al cammino di Santiago, ma ci sono anche altri cammini, la via di Francesco per esempio qui in Italia, e costa sacrificio farlo, e quindi implica anche questo, fare un piccolo sacrificio per offrire un qualcosa, e quindi io intendo così il cammino religioso. Mi piace molto Sara quando dici che i pellegrinaggi dovrebbero nascere dal piccolo del proprio quartiere, perché tante volte noi siamo tra virgolette ignoranti di quello che ci circonda, di quello che è a noi più prossimo, abbiamo delle chicche magari dal punto di vista spirituale, ma anche storico, sociale, luoghi che hanno segnato comunque la storia di una comunità, e tante volte chi ci abita è il primo a non sapere appunto la storia di quel luogo. Però detto questo, quale consiglio puoi darci? Un itinerario, un pellegrinaggio, un luogo da non perdere assolutamente in Italia? Mettiamo da parte San Giovanni Rotondo però. Va bene. Allora, il posto che ho visitato ultimamente, che mi è rimasto nel cuore, è stato il Santuario dell'Amore Misericordioso a Colle Valenza in Umbria. Tra l'altro, ovviamente non so se un po' capite la storia, è dedicato a Madre Speranza, e il corpo di Madre Speranza si trova lì, è stata lei a volere la realizzazione di questo santuario, e all'interno del santuario è considerato un po' la piccola Lourdes d'Italia, proprio perché avviene lo stesso che avviene a Lourdes, quindi si possono fare dei bagni nelle piscine di quest'acqua dell'amore misericordioso, ed è un'acqua che dicono che sia un'acqua con poterità maturgici. E il 2 marzo riapriranno appunto queste vasche per appunto fare quei bagni come avviene a Lourdes. E quindi io spero di poterci tornare, io sono stata poco fa, ma desidero tornarci perché è stata una bellissima esperienza anche solo andando lì e attingendo l'acqua nella mia bottiglietta, e quindi insomma spero di tornarci presto per fare anche l'esperienza del bagno nella vasca. Sara, non solo social, appunto non solo Instagram, il sito internet, il tuo blog online, ma anche un libro che si intitola Un'altra strada, i miei itinerari mariani in Italia. Appunto, ci racconti in quale viaggio spirituale accompagni i lettori con questo libro? Sì, è un lungo itinerario che attraversa tutta l'Italia, passando per 12 santuari mariani in cui ci sono state delle apparizioni della Vergine Maria. È un diario di viaggio, un po' quello che faccio nel blog online, l'ho riportato diciamo sulle pagine del libro, quindi do anche consigli di viaggio su dove dormire, dove mangiare, informazioni storiche, informazioni culturali e artistiche, c'è un po' di tutto, ovviamente anche il racconto delle apparizioni nei vari santuari. Che bello, stavo vedendo la tua pagina social, davvero molto molto ricca, tra l'altro hai anche un numero considerevole di follower, dunque possiamo anche dire che questo tema appassiona la gente, c'è una domanda, parliamo dal punto di vista economico, di senso, dal punto di vista degli itinerari religiosi, non so se tu concordi con questo. Assolutamente sì, io diciamo che questa cosa degli itinerari religiosi mi è un po' esplosa in mano, io non mi aspettavo che avrebbe preso questa portata, cioè io ho iniziato a raccontare con molta semplicità le mie esperienze, i miei pellegrinaggi, i miei viaggi religiosi e ho deciso appunto di aprirmi questa pagina Instagram che ha riscontrato un discreto successo proprio perché ci sono tante persone interessate, ma non solo persone credenti come me, insomma, che frequentano chiese e santuari, ma anche persone incuriosite da quello che racconto, dalle informazioni, dalla storia dei Santi, sono rimasta piacevolmente colpita da questo. Che bella. Potremmo dire, Sara, che questa passione nasce anche da un tuo personale cammino di fede, anche di conversione? Assolutamente sì, diciamo che io sono esperta di digital marketing, quindi ho iniziato un po' così, ho studiato anche giornalismo e inizialmente mi occupavo appunto, e tuttora lo faccio, della comunicazione di varie realtà aziendali, poi ho deciso di aprirmi un progetto mio e questo ha coinciso con un periodo di conversione, perché mi sono avvicinata particolarmente a Dio per un'esperienza negativa che ho vissuto nella mia vita, per una sofferenza grande. Ho incontrato un frate dell'ordine dei frati minori, sono andata a una sua celebrazione, sono rimasta colpita da alcune parole che ho sentito, e con lui sono iniziati i primi pellegrinaggi ad Assisi, e poi a Meggiugori, abbiamo fatto anche tantissime altre esperienze, anche di ritiri, e per me si è aperta proprio una strada nuova, e da lì ho deciso di raccontare, come dicevo, con semplicità, quello che a me faceva stare bene, perché speravo in qualche modo di portare una testimonianza affinché anche altre persone incontrassero Dio, magari in una chiesa, magari entrando in chiesa, ecco, semplicemente per me, io sono felice quando qualcuno mi scrive, sono andata a visitare la chiesa che hai consigliato, perché poi lì ci pensa il Signore, insomma. Che bello, che bello. Allora, per chiudere, Sara, dove possiamo seguirti sui social? Allora, mi potete trovare sulle mie pagine Instagram e Facebook, Sara Alessandrini di Nerari Religiosi. E allora, in attesa di incontrarti a San Giovanni Rotondo, perché ci raccontavi prima fuorionda che ci sei stata, ma tanti anni fa, forse magari quando non c'erano ancora gli smartphone, non c'era ancora Instagram, esatto. Ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo, davvero, perché per noi questo, insomma, è un luogo del cuore. Grazie. Ciao Sara. Grazie Sara. Grazie, grazie per la tua bella testimonianza. Grazie mille. Ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme.